E' così no però, non mi piace più il Napoli, non mi piace più il Napoli, cioè ragazzi, la terza forza del campionato, la seconda forza del campionato, se è partito benissimo, a un certo punto non lo so, non riesco più a capire se questo Napoli può fare qualcosa o si fa risucchiare al quinto o sesto posto, perché li vedo strani, li vedo davvero strani, non la vedo come squadra in signe che va via, gli africani che sono volati ovviamente, andarsi a fare il loro campionato, uno si me che l'anno scorso non aveva giocato per infortunio, si è infortunato anche quest'anno, ma io non vedo più la squadra in mano a spalletti, devo dire la verità non la vedo più questa squadra in mano a spalletti, invece la Fiorentina, la Fiorentina non solo sta crescendo, ma secondo me sta crescendo in, si sente squadra, si vuole sentire una grande, la Fiorentina vuole diventare una grande, e può diventare una grande, ovviamente gli step sono tanti, cioè nel senso non lo diventerà quest'anno o neanche l'anno prossimo, ma se Commison comincia veramente a spendere, la Fiorentina la struttura ce l'ha, però ritornando al Napoli, signori miei, ma davvero, cioè davvero il Napoli, la Coppa Italia è una cosa importante per il Napoli, per qualsiasi altra squadra, cioè buttarla così, in questa mala maniera, come se non servisse a niente, non la vedo bene il Napoli, non vedo bene il Napoli neanche per il proseguo della stagione, e spalletti è la persona giusta, perché spalletti è un ottimo allenatore, però ogni volta, ogni volta, ogni sua squadra, dicembre, gennaio, crollano, crollano sempre, praticamente fa pochissime vittorie lui a dicembre e gennaio, e siccome è una cosa che si ripete sempre, 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 io non riesco più a capire questa situazione, guardate che spalletti è un ottimo allenatore, ha portato la Ludinese in Champions, ai play-off di Champions, aveva fatto bene con l'Empoli, ha fatto bene con la Roma, ha fatto bene con l'Inter, però mi sa che incomincia a mancare il Napoli, il Napoli incomincia a mancare, ragazzi, questa è la mia impressione, è la mia impressione, davvero, e dopo, ogni volta che io, virgolette, non critico il Napoli, io non critico il Napoli, ma ogni volta che penso che il Napoli possa fare non bene, mi ritrovo qua, gli amici, siamo tutti amici, ovviamente gli amici napoletani che mi dicono sempre, attenzione perché ci sono gli infortunati, ci sono gli infortunati, ci sono gli infortunati, cioè ormai tutte le squadre ce l'hanno gli infortunati, cioè ormai davvero tutte le squadre ce l'hanno gli infortunati, ovviamente ti manca Koulibaly, Osime, Anghissa, e va bene, è ovvio, però una Fiorentina così non ti fai battere 5-2 in casa, però è una partita anche strana, dopo vogliamo mettere anche io, non parlo mai degli arbitri, ma anche l'arbitro un po' non mi è piaciuto il modo come ha arbitrato, anche quel minuto in più, ma questo comunque non cambia la sostanza delle cose, la sostanza delle cose è che il Napoli è in caduta, è in caduta, anche perché con la Juventus va bene, aveva fatto una 1, ma dopo aveva vinto una 0, cioè è un Napoli che non riesce più a essere quello che è stato per tanti anni, cioè un Napoli che fa azioni, un Napoli che fa gol, non è un Napoli felice, è un Napoli abbastanza, io li vedo tre, è una squadra triste, è una squadra che non sembra squadra, secondo me tutti i giocatori per un verso o per l'altro vogliono andare via e pensano di andare via e stanno facendo di tutto per andare via e magari invitano anche insigne che si stanno ad apprendere tanti soldi, probabilmente è questo il Napoli, è un Napoli che va a questo Napoli, questo Napoli ha una scia lunga, ma lunga 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 lunga, addirittura che viene dai tempi di Benitez, perché ci fu Benitez, ma Sarri che incominciarono a plasmare questo Napoli, dopo di che venne Sarri, dopo Sarri venne Ancelotti che là un po' frenò la situazione, dopo venne Gattuso, però quel Napoli è ancora quel Napoli lì, è quella storia lì e forse ne deve nascere un'altra, se va via insigne ne nasce un'altra, così come nascerà una bella storia per la Fiorentina, perché la Fiorentina sta incominciando a agire da grande squadra, cioè da sorelle, sapete le sette sorelle, beh la Fiorentina sta incominciando a agire come se fosse una sorella, è là sopra, vuole stare là sopra, ha intenzione di stare là sopra, di fare mercato, adesso hanno preso Piontek, però io vorrei vedere un Fiorentina-Milan con Pum 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 Pum, sarebbe divertentissimo, ovviamente Piontek non è Vlovich, quindi se la Fiorentina manda via, se vendono Vlovich e Vlovich va via, a quel punto la Fiorentina può fare un passo indietro, però adesso i passi li sta facendo avanti, li sta facendo tutti avanti, chissà dove arriva, chissà dove arriva, stasera c'è Genova-Milan, Milan-Genua, seguiamola, magari ci faccio il video dopo, ragazzi iscrivetevi se non siete iscritti, campanella, seguitemi su Instagram, mi dico ctn08, sapete tutto, ciao ciao, like, mettete like, ciao ciao!